eccoci qua, allora siamo in un internet point e abbiamo appena finito la nostra composizione, il nostro striscione insomma, si abbiamo creato un nuovo striscione per Marina, poi non si vede un cazzo, martedì ci saremo e lo vedrete tutti, siamo entusiasti siamo orgoglioni, coglioni, anche coglioni, esatto, l'abbiamo fatto io, Luca e tutti i miei, come mi chiami, un giorno che siamo insieme, 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 amorevolmente, come si dice in italiano, a Laura, e basta, poi ora, di cosa possiamo dire? questo è per tutti i fans, lo porteremo noi, però è una cosa, come si può dire? ok fans, siamo noi i veri fans di Dorina, siamo noi, diciamo che è per tutti i fan, lo portiamo a nome però è dedicato a Dorina, da tutti i fans, ecco, questo è quello che voglio dire, abbiamo preso spunto da una specie di attacco verso di lei e l'abbiamo fatto diventare un pregio, una dotte, no? sì, non dire tutto, però ricordate le parole di Mara Maionchi, lo vorrei poter dire, va bene, che dire, forza Dorina, forza Dorina e basta forza Dorina se mi sentite non ci verrò perché non ho capito dove devo andare e niente, ringrazio anche i tifosi di Nathalie che mi hanno invitato per il 12 però noi saremo seduti tra i fans di Dorina perché Dorina ci sarà fino alla finale poi ci sarà anche e niente, vi salutiamo ciao 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 ok, questo è un video che non vedrete meglio no grazie a tutti